Inizia la next gen su console e qui andiamo a vedere l'unboxing di Xbox serie S Ho già fatto un altro video dove andiamo a vedere quello di Xbox serie X che è qui In questo video vediamo Xbox serie S, console che adesso approfondiamo Che ha comunque il suo senso, è il punto d'ingresso più economico possibile per la prossima generazione In ottica videoludica e ha assolutamente il suo perché Vediamo il contenuto della confezione e anche il primo avvio Iniziamo Eccoci davanti alla confezione della console Nella parte frontale vediamo una vista del pad e della Xbox serie S Con l'elemento di spicco di fatto del design Adesso andiamo a vedere da vicino ovvero questo grosso cerchio nero che riguarda poi la dissipazione e quindi la ventola Anche in questo caso è riportato come la Xbox serie X 120 fps Anche se in realtà qui non è a risoluzione 4K teorico Si tratta del 1440p Il quad HD però dipende sempre perché allo stato attuale non abbiamo titoli che vanno a questo framerate Non c'è il lettore del disco e in questo caso non c'è un terabyte ma mezzo terabyte di SSD Ed è una console praticamente completamente digital Qui abbiamo il dettaglio serie S Nella parte posteriore inoltre vediamo lo slogan Power Your Dreams Visto anche su serie X e i riferimenti che troviamo anche sull'altra console Quindi su tutti il Game Pass che ci permette di accedere a più di 100 titoli Anche a quelli di nuova uscita di casa Microsoft Il form factor della console estremamente compatto E la possibilità di giocare migliaia di giochi E la nuova architettura Xbox Velocity Architecture A questo punto togliamo i sigilli e apriamo la confezione Anche in questo caso l'apertura è similare rispetto a quella vista su Xbox serie X Infatti ecco la console con lo stesso tipo di sigillo La andiamo a sollevare e vediamo che è super compatta La mettiamo da parte E all'interno della confezione anche qui troviamo la guida di avvio rapido Con riferimento all'app che serve per il settaggio iniziale E poi nella parte interna Troviamo il controller Il cavo di alimentazione E il cavo HDMI per il collegamento alla TV Quindi nulla idrascendentale Qui il pad è bianco Bello al punto di vista estetico E troviamo anche qui il pulsante per la condivisione rapida Inoltre la croce direzionale è simile a quella che troviamo sul pad Elite E anche qui il grip è presente nella parte posteriore Inoltre c'è il vano per le pile Sempre qui dietro e nella parte inferiore troviamo lo slot di espansione E il collegamento per le cuffie con il jack da 3 mm e mezzo Pile incluse Togliamo le coperture E estraiamo l'Xbox serie S Quindi abbiamo visto da vicino la parte relativa alla ventola E vediamo che è estremamente compatta rispetto alla Xbox Arriverà anche un confronto tra serie X e serie S Per vedere qual è quella che conviene di più Similare il form factor rispetto a Xbox One S E anche qui c'è il dettaglio L'offron Seattle nella parte inferiore Più complicato da vedere in questo caso Ecco la scritta E qui abbiamo le feritoie per l'espulsione dell'aria calda Cosa che è presente anche nelle parti laterali Come vi ho fatto vedere nella parte superiore Qui non abbiamo il lettore di disco come abbiamo visto sulla confezione E c'è il pulsante per sintonizzare i controller La porta USB sulla parte frontale E al lato il pulsante di accensione Quindi è estremamente minimal Ed è di fatto il punto di accesso al digitale alla next gen Le caratteristiche tecniche approfondiamo meglio in fase di recensione Come vi ho detto prima Comunque abbiamo il gaming a 1440p Quindi fino in teoria a 120 fotogrammi al secondo Adesso passiamo alla fase di configurazione Per quanto riguarda Xbox serie S Ho fatto la procedura iniziale di associazione con il codice Che è uguale rispetto a quello che troviamo su Xbox serie X Per vedere questo dettaglio comunque facilmente gestibile Ti rimando all'unboxing della serie X col primo avvio Adesso già sto facendo il riavvio dopo il primo aggiornamento Adesso toccherà al pad Per riassumere molto semplicemente si inserisce un codice Si inserisce il proprio account Microsoft relativo alla console E ovviamente parte dopo l'associazione alla rete wifi Automaticamente anche l'aggiornamento iniziale Che è anche abbastanza piccolo Comunque adesso stiamo finendo l'aggiornamento Probabilmente partirà anche quello per il pad E ho ragionato un attimino sulle necessità di chi acquista Xbox serie S Costa poco, non ha il lettore E comunque io la utilizzerò al posto di un Xbox One S Che ha il lettore ma principalmente uso il Game Pass E quindi non c'è bisogno di un lettore ottico E le applicazioni direttamente su console È estremamente compatta La vediamo nell'angolo dello schermo Ed è veramente piccola Vi metto comunque qualche immagine di confronto con la serie X Ma entrambi sono console abbastanza compatte Che non ingombrano più di tanto Anzi lasciano tanto spazio volendo E sono belle anche dal punto di vista del design Il primo avvio comunque è semplicissimo E una volta finito Passiamo poi alla interfaccia Per dare una breve panoramica Al primo avvio dunque procedo con l'aggiornamento del controller Che verrà fatto in circa un minuto Forse qualcosina in più E ragioniamo un attimo anche sulla memoria della Xbox serie S Perché abbiamo mezzo terabyte Se andiamo a vedere poi in diretta quanto spazio occupa il sistema Però comunque questo ci dà meno margine per l'installazione dei giochi Soprattutto man mano che andremo avanti Se installo Call of Duty Ovviamente perdo metà della memoria Perché solo quello occupa 250 gigabyte Ed è un problema Dipende poi ovviamente come lo andiamo a installare Perché su Xbox è possibile sezionare le varie installazioni Soprattutto con i titoli di nuova generazione Potrò scegliere ad esempio di un titolo Se installare solo la parte multiplayer o solo la campagna A seconda delle mie esigenze di spazio E ovviamente se scarico 3-4 giochi Se ne vanno via 200-300 gigabyte Quindi ovviamente è consigliato avere una connessione a alta velocità Almeno in fibra ottica FDDC Anche con una DSL si può giocare Anche online però ovviamente L'installazione di un nuovo gioco rispetto al precedente Soprattutto utilizzando chiaramente solo il digital In questo caso richiederà un po' più di tempo Quindi diventerà fondamentale anche gestire tramite applicazione Se ad esempio facciamo partire il download Mentre non siamo a casa Dopo aver fatto il settaggio Posso anche applicare le ultime impostazioni di un'altra Xbox che avevo Quindi clicca su applica impostazioni E a questo punto ho finito La cosa massima appunto è inserire direttamente il proprio account Microsoft Viene rilevata la presenza di una TV comunque in 4K E quindi viene riconvertita la risoluzione Il massimo comunque gestibile da questa console Ovviamente c'è anche il 4K Però potremmo giocare anche in 1440p ad altri frame rate Abbiamo finito la configurazione Vado sull'interfaccia principale Bello il layout iniziale E ho subito a disposizione tutto quello che serve Io ho il Game Pass Chiaramente Cosa che consiglio a chiunque effettivamente Tra l'altro acquistando Xbox Serie X e Xbox Serie S Vi lascio il link in descrizione Si ottiene anche la possibilità di prendere 3 mesi di Game Pass A un prezzo scontato su Amazon Quindi ve lo consiglio assolutamente E con meno di 10€ al mese Utilizzando questa offerta È possibile di fatto avere anche EA Play Quindi una serie di electronic cards Ma poter accedere all'intero catalogo del Game Pass Quindi più di 100 giochi Tra cui le esclusive Microsoft Al giorno di uscita gratis praticamente È uscito per esempio Gears Tactics recentemente Comunque il catalogo è ovviamente a discrezione dei propri gusti Detto questo quindi Non mi resta che andrà a installare i titoli Questa console la proverò su uno schermo Adesso avete di più lo schermo in termini di luminosità Comunque questa console la utilizzerò su uno schermo più compatto Non sul 55 pollici 4K OLED Di cui vedremo la recensione prossimamente qui sul canale Ve la lascio nelle schede se è già uscita Però comunque farò anche un confronto Proprio su una TV di grandi dimensioni Come in questo caso perché parliamo comunque di una console next gen Quella più economica per poter accedere Ad un'esperienza di gioco migliore e superiore E vedremo le differenze anche con Xbox Series X Quindi vi invito a lasciare un like se questo video vi è piaciuto Iscrivetevi al canale per perdere i prossimi video Riguardo a non solo Xbox Tutta la next gen E lasciare una domanda qui sotto Nei commenti o direttamente su Instagram Di cui trovate il link in descrizione Se avete qualche dubbio o qualche curiosità A me non resta che salutarvi E noi ci vediamo al prossimo video E noi ci vediamo al prossimo video